Ciao, come ti chiami? Ero Giannulli Che mestiere fai? Buongiorno Ti piace? Buongiorno Quanti anni hai? 45 Da dove vieni? Da Milano Qual è il tuo sogno? Il mio sogno si è realizzato a quarantagno perché ho iniziato a ballare, eravamo quello che volevo, ho fatto delle belle cose perché ci sono molte persone italiane e poi sento di avermi organizzato, però adesso sto addentrando sull'abitazione, con del viaggio di Giovanna per cui ho spesso Perfetto, la tua scuderia? Ippoland Ippoland di Milano, un applauso! Grazie Ecco, ti sono qualcosa di bene Ho 45 anni, sono nonno, sono contentissimo, poi ho conosciuto questa gente, voi mi piacete tantissimo, mi scudi Martello E ringrazio la lingua lingua E grazie a tutti Ok, grazie a tutti, vai! Stop!